Allora, mamma, di quale mestiere ti occupi? Io sono un'incaricata della Forver e mi occupo di rappresentare il bimbi, che è un robot da cucina. Come lo sponsorizzi? Lo sponsorizzo facendo delle dimostrazioni. Praticamente io vado a casa di un'amica, insieme invitiamo altre sue amiche e creiamo una dimostrazione. Nella dimostrazione io, insieme ai bimbi, devo preparare da mangiare. Quindi preparo un sorbetto, preparo degli impasto, preparo dei sughi, preparo una frittata, preparo tante pietanze. E faccio vedere alle persone che, come in poco tempo, si possono fare più pietanze. Alla fine di una dimostrazione la padrona di casa riceve qualche regalo? Sì, riceve un regalo, sia perché mi ha invitata a casa sua, e poi un ulteriore regalo nel momento in cui c'è una vendita. Ti piace questo lavoro? Tanto. Perché? Perché grazie a questo lavoro la possibilità di conoscere tante persone, o la possibilità di dare dei consigli, di insieme a loro di creare delle ricette, e di avere da loro dei consigli. Lo vorresti cambiare? Questo lavoro no, per niente. Ok, grazie. Ok, prego.